allora scusa mi stavi giocando con la penna che gioca con la penna gioca gioca amore dai puoi giocare non ti dice niente la nonna ragazze buongiorno buongiorno da questa birbante allora raga niente ragazze scusate ho preso ho dato un calcio alla lanterna allora raga vi volevo dire che sto facendo dei cambiamenti però non ve li voglio fare vedere ora ve li voglio fare vedere poi quando è tutto bello sistemato d'accordo raga non me ne vogliate vi faccio vedere quando è tutto bello sistemato allora ragazze allora io ho un mal di schiena da morire uno e poi che cosa dirvi è giustamente questi lavori questi cambiamenti che stiamo apportando ci volevano come si dice come il pane perché io mal di schiena vai a fare questi lavoretti e giustamente come dire mi peggioro la situazione comunque sono le 11 e 35 mia figlia mi ha chiamata vuole che vada da lei in soccorso perché vi spiego oggi a pranzo se ne va con le sue amiche e colleghe a mangiare il sushi e quindi mi lascia lice si amore che c'è niente non hai giocato più con la penna e vi stavo dicendo quindi a pranzo mi lascerà alice e io sono felice sia perché sto con la mia nipotina sia perché mia figlia gioia mia ha bisogno di svagarsi anche lei perché lei ha trascosto dicevo lei ha trascorso quasi tutti i nove mesi a stare piuttosto riguardata quindi io le dicevo fai poco e niente anche di non di non camminare troppo a piedi di non uscire molto e poi praticamente da maggio giugno luglio questi sono stati tre mesi in cui lei veramente aveva il pancione era sempre a casa poi non vi dico giugno adesso non ricordo bene ma luglio è stato un mese caldissimo per fortuna poi lei ha partorito il 23 comunque diciamo è stata molto in casa poi metteteci la nascita della bambina che i primi giorni sono tremendi e nel senso che il primo figlio la bambina che la sera piange non si sa che cosa le notti e quindi si sa come sono i primi giorni insomma con un neonato poi a poco a poco a poco a poco si riesce a trovare una dimensione una routine però i primi giorni sono davvero tosti e quindi siccome appunto le sue colleghe e amiche l'hanno invitata ad andare a mangiare il sushi a pranzo lei mi ha detto mamma ti posso lasciare la bimba ci mancherebbe altro certo quindi mi deve lasciare la bimba ma devo anche andare a casa sua intorno mezzogiorno e qualche cosa perché giustamente lei si vuole fare una doccia lo shampoo si deve vestire truccare e quindi mi ha detto mamma Alice non vuole stare nel sediolino che fa vieni e la tieni un po con tu e quindi ci vado per tenerla un poco in modo che lei si possa così sbrigare e poi a pranzo sarà da me la bambina ragazzi vi faccio vedere una cosa che non è sempre che si vede vediamo se allargando l'obiettivo riesco allora questo è l'isolotto ragazzi allora vi faccio vedere questa cosa che vedete questi solotto sapete che non si vede sempre e ustica ustica si vede quando c'è il cielo così libero da da foschi e cose varie guardate come si vede ustica meraviglioso e vi ripeto oggi il mare è una tavola guardate che bello il cielo guardate che bello io tra qualche giorno dovrò levare lo dico sempre dovrò levare queste zanzariere ma mi dispiace è vero amore non stiamo bene noi con le zanzariere nel balcone allora ragazze e quindi niente ragazze ora mi faccio faccio il bagno la cucina l'ho fatta mio marito intanto non c'è perché a sbrigare delle cose quindi faccio il bagno poi mi faccio io una doccia veloce perché lo shampoo l'ho fatto ieri quindi sarà una doccia senza shampoo i miei omini che devono e donnine che devono fare la pipì sono sempre qua ragazze queste due figurine sono piaciute un sacco ad alessia mamma diceva che sono carine le voglio pure io quindi le sono piaciute tantissimo ok ragazze quindi mi faccio questa pulizia nel bagno così poi possa andare in aiuto e in soccorso la mia figlia ok 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 Grazie. Grazie.